Buonasera amici, mi chiamo Deborah e questo è un canale di Alta Sartoria. Oggi per la lezione che riguarda gli strumenti e i tessuti vedremo gli strumenti necessari a segnare, disegnare e misurare. Finalmente ce l'ho fatta, scusate le occhiaie, ho cucito fino alle 4 e mezza stanotte, veramente non ce la facevo più, non è una cosa comune. Comunque il video verrà come verrà, non farò taglie, non farò niente, non lo monterò così come viene, ve lo terrete, scusate. Però ci tenevo a farlo anche perché l'ho rimandato due volte. E vediamo immediatamente i nostri strumenti. Allora, iniziamo dalle basi, dalle cose essenziali. Quando noi disegniamo un cartamodello abbiamo bisogno della carta. Dipende dalla modellistica, ci sono persone che utilizzano le squadre, quelle brevettate, oppure i fogli, quelli già squadrettati. Il tipo di modellistica, l'utilizzo io, necessita di semplice carta da modelli, su cui poi va disegnato tutto. E non sono l'unica ad utilizzare quel tipo di modellistica che si basa sulle proporzioni del corpo. Quindi si fanno opportuni calcoli e si trovano e si segnano tutti i cartamodelli. Ok? Che carta utilizzare? Intanto, non so se lo sapete, arriverà stropicciata, allora trovate stropicciata, la carta si stira. Si può stirare tranquillamente con il ferro, ovviamente a secco. Almeno un metro e quaranta per un metro. All'incirca, almeno una delle due misure deve essere più lunga se disegnate un pantalone del pantalone. Se fate cose più piccole, ovviamente è sufficiente quella più piccola. In genere uno standard di un metro e un metro e quaranta è una pesantezza di almeno 30 grammi. 30 grammi a metro quadro. Comunque 30 non mi ricordo cosa a metro quadro. Non di meno. Forse ancora 25, ma assolutamente non 20 grammi perché ci capitò una volta a scuola e fu un disastro perché per sbaglio arriva questa carta veramente troppo leggera che nel momento in cui era molto trasparente ma in realtà non è una cosa necessaria per passare i cartamodelli perché esiste un metodo molto più comodo che la rotella che adesso vedremo. Quindi la trasparenza dei venti è più accentuata ma è talmente delicata che si rompe troppo facilmente nel momento in cui voi andate a disegnare il vostro cartamodello e oltretutto nel momento in cui andrete a conservarlo perché magari riterrete opportuno fare altri modelli con lo stesso cartamodello una carta un pochino più pesante si conserverà meglio nel tempo e sarà meno soggetta a strappi, usure, eccetera. Quindi vi consiglio della carta di almeno 30 grammi 30 qualcosa a metro quadro scusate, oggi non ci sto proprio con la testa sono un pochino assonnata ma da oltretutto sono anche super raffreddata per le allergie e quindi vi vedrete un po' uno straccetto prossimamente. Bene, quando dicevo che si portano i cartamodelli dal foglio voi li disegnate e spesso e volentieri sono sovrapposti o sono vicini oppure semplicemente volete mantenere l'originale e utilizzare un cartamodello sul tessuto cosa farete? Disegnerete prenderete un tessuto che faccia un po' di morbidezza e sovrapporrete due fogli uno, quello con il cartamodello e il secondo quello su cui trasferire il cartamodello e lo passerete con la rotella per esempio io ho una linea io ho una linea di un cartamodello una serie di linee voglio trasferirla nel foglio di sotto che farò avrò il mio cartamodello sopra un secondo foglio libero sotto è un tessuto morbido che permetta ai punti di questa rotella di affondare un pochino e farò dei segni ok? con bucherellando il mio la mia carta il sopra col cartamodello originale lo conserverò il sotto sarà segnato in maniera precisa con la mia buchellatura molti la conoscono questa tecnica quindi forse sto dicendo una cosa un po' scontata questo è vero anche quando utilizziamo è utile anche quando utilizziamo un cartamodello di un giornale io non uso li usavo da adolescente questo in realtà non è della mia adolescenza perché è del 63 è un vintage è un dono di una signora su un autobus pensate io che sono una chiacchierona sono abbastanza socievole questa signora è dolcissima mi ricordo la dolcezza mi disse io non li uso più visto che tu che a te piacciono queste cose te li dono e ce l'ho proprio nel cuore questa signora mi ricordo eravamo su un pullman diretto in spiaggia non so cosa ci facesse con questo non farò tagli quindi vi racconterò tutto ciò che mi viene in mente mentre spiego come funziona quando voi avete un tracciato di un giornale tipo burda o altri voi troverete la vostra taglia ogni taglia e ogni modello ha la sua linea dedicata qui ci sta non so un trattine una x una punteggiatura eccetera individuate qual è la taglia il modello che vi interessano e anziché avere il vostro cartamodello fatto da voi avrete il cartamodello del giornale prenderete il vostro cartamodello lo appoggerete sul foglio e con la rotellina andrete a tracciare sempre cartamodello foglio e un tessuto morbido sotto che permetta di far affondare la dentellatura della rotella e andrete a segnare tutti i pezzi indicati dal vostro dal vostro giornale ok secondo la vostra misura e secondo il modello prescelto e questo è un modo per trasferire i vostri cartamodelli sulla carta sulla carta nella vostra taglia ok bene quando noi segniamo però il nostro cartamodello oppure segniamo il tessuto utilizziamo i gessi nell'altra sartoria io non ho mai visto un sarto da uomo usare la matita a gesso io non ce l'ho neanche si utilizzano i classici gessi che sembrano anche quelli più buoni in realtà sembrano anche i peggiori perché sono un po' rovinati perché è proprio un gesso un gesso vedete questo questo è un gesso di una marca anche sconosciuta non lo conosco che è diffusissimo io su Amazon ho trovato solo questi e non vi li ho consigliati infatti perché sono troppo duri mi è capitato una volta di utilizzarli alcuni morbidi a scuola li troviamo li portò uno studente coreano li portò dalla Corea ed erano meravigliosi di questa forma qui perché rimanevano diciamo affilati abbastanza più a lungo che non questi che vanno affilati continuamente però questi qui che ho trovato qui in Italia sono troppo duri sono proprio troppo duri quando vai a segnare non sono quelli di cera questo qui è proprio il gesso faccio proprio fatica a segnare perché li vedete colorati perché a volte i tessuti sono chiari e c'è bisogno di un gesso di un altro colore quindi in genere dovete dotarvi di un gesso bianco e di un gesso colorato evitate il giallo perché per esperienza personale quando ci passate col ferro da stiro per quanto ci sia scritto che con l'acqua va via non va via perché non usare quelli di cera perché non è detto che vadano via perché quelli vanno via con il calore del ferro da stiro e poi perché comunque non sono se volete essere professionali se volete comunque lavorare come si lavorava nella vecchia sartoria cercate di utilizzare i mezzi tradizionali che non vi tradiscono mai ok quindi gessi uno bianco uno colorato non giallo come si affilano io per abitudine ormai li affilo sempre con le forbici in realtà online trovate l'affila gesso terribile veramente terribile non ci buttate i soldi anche se sono pochi sono veramente soldi buttati il vero affilagessi su Amazon purtroppo non c'è è una scatolina che purtroppo non posso farvi vedere semmai quando vado nel laboratorio di mio zio vi faccio una foto ve lo metto in community è un un box diciamo una scatolina con delle lame di metallo parallele in cui si affila il gesso perché non va bene quello che trovate online perché è una affilatura troppo rigida fatta così potete muovere poco il gesso poi credo che vada meglio per altri tipi di non so c'è scritto tempera matite ma io l'ho provato fa veramente pena quando invece usate l'affila gesso va tenuto in un certo modo e l'affilatura va fatta obliqua quindi come andiamo a farla con le forbici e vi assicuro che trovate una grande differenza anche rispetto alle forbici quindi se lo trovo online anche se non su amazon ve lo indico così magari lo comprate vi avverto però che è un pezzo abbastanza costoso oltre che raro lo trovate intorno ai 50 euro quindi se affilate con le forbici e lo fate bene va bene comunque quali sono gli altri attrezzi che noi utilizziamo per in sartoria per le misure il classico metro da sarta esistono metri classici da un centimetro e mezzo che io utilizzo i sarti utilizzano in genere lo tengono sempre non so se mi avete visto ogni tanto con il con il centimetro attorno al collo perché è abitudine averlo attorno al collo e prendere all'occorrenza visto che si utilizza anche spesso per questa ragione vi sconsiglio quello che ho io l'altro non lo riesco a trovare non so dove l'ho fatto dove è finito vi sconsiglio questo per quale ragione tenendolo sempre al collo come buona norma quando cucite quelli classici come quello che vi ho messo in descrizione hanno centimetri sia da un lato che dall'altro questo ha i pollici a meno che non vi serva cercate anche questo ma non lo trovo particolarmente comodo a meno che voi non vogliate utilizzarlo per con i pollici quindi per cambiare da centimetri a pollici quando voi utilizzate il classico centimetro è meglio che sia centimetri che abbia la gravatura opposta che vuol dire che se da qui è da 1 a 150 girando dovete avere 150 qui e 1 dall'altra parte perché qualsiasi capo è una questione di velocità mi sembra una sciocchezza ma voi andate a prendere il capo del centimetro per misurare e vi ritrovate vedete in coda lo prendete questa parte per sbaglio e avete la coda del centimetro del metro per sarta che noi spesso chiamiamo anche solo centimetro che vi dà soltanto il finale la misura più alta se voi utilizzate quello che come quello non per forza quello che che vi ho indicato nei link in descrizione voi avrete da una parte l'uno e dall'altro il 150 ok quindi qualsiasi punta o qualsiasi capo del centimetro voi andrete a prendere sarà sicuramente o da un lato o dall'altro il capo quindi la parte che vi interessa e vabbè questa è una sottigliezza però se cominciate a prendere le movenze i modi di lavorare in una sartoria averlo attorno al collo significa doverne avere uno come vi ho appena spiegato allora per quanto riguarda il gesso c'è questa questa cosa che vedete qui adesso proverò a farvi vedere com'è è un attrezzo che è disordine bocca miseria ok vedete questo attrezzo è un segna orlo è un'asta graduata che si trova di diverse misure la mia questa è un'asta che arriva a 90 cm in cui voi metterete qui dentro qui qui dentro voi metterete il gesso ok poi chiuderete questa è una pompetta come quelle del talco antico e da questa fessura molto sottile uscirà il gesso voi lo appoggerete nel punto della gonna perché questo è un segna orlo da gonna lo appoggerete alla vostra gonna e segnerete in più punti quindi fate mettere la cliente oppure vi mettete voi e qualcun altro segna per voi su una insomma in piedi se necessario anche su uno scale o un gradino oppure no e andrete a segnare con con questo con questo con questo con questo attrezzo non lo so che ne uscirà fuori col fatto che non taglierò nulla bene andrete a segnare l'orlo in più punti ok segnandolo in più punti avrete dei punti da unire per poter segnare in maniera precisa l'orlo non è un attrezzo essenziale io lo trovo divertente quando l'ho visto l'ho comprato subito l'ho usato poche volte ma è comodo è comodo ma non necessario ve lo volevo far vedere ok passiamo a invece le squadre che utilizzo allora queste sono le classiche squadre da di scuola ok che quando segnate i cartamodelli o comunque il gesso sul tessuto a volte è utile io che però ho studiato architettura mi ritrovo anche altri strumenti utilissimi soprattutto questo che si chiama parallelineo è utile soltanto se è abbastanza lungo perché questo è da 80 cm e lo utilizzo quando faccio cose piccole tipo le gonne ho già un pantalone un po' fastidioso non riesco a trovare perché tanto che non lo uso le gonne non le faccio spesso si fa passare un nastro sia da un lato che dall'altro che blocca lo scorrimento del paralleligrafo si chiama o parallelineo blocca le due blocca le due estremità come scorrimento e voi avete una linea fissa per poter segnare più punti sapendo di mantenere parallele le linee ok è una linea che scorre parallela in più punti di una lunghezza definita ripeto è comodissimo se dovete fare una gonna o qualcosa di piccolo perché questo è 80 cm se dovete fare già un pantalone che supera si spera i 90 cm dagli 85 a un metro magari di gambe ma magari veramente allora prendete usate i metodi tradizionali classici quest'altra è un'altra cosa che da architetto o anche da tecnico perché si usa anche in altri mestieri tecnici è una squadra graduata ve la faccio vedere perché assomiglia molto a una squadra che io qui non ho e che metterò in foto nella community quando andrò nel laboratorio di mio zio che non si trova non riesco a trovarla neanche usata che è la classica squadra che utilizzano i sarti per disegnare direttamente sul tessuto sono favolosi li dovreste vedere sono delle squadre molto grandi anche più grandi di questa quindi ho visto che online si trovano quelle che usano i sarti sono fisse non hanno il goniometro incorporato quindi sono fisse e quelle che trovate online sono troppo corti sono tipo 15x30 è una classica squadra a cui manca l'ipotenusa praticamente invece quelle dei sarti sono bellissime oltretutto sono ridottone sono segnate sono vintage sono stupende e hanno una graduatura e sono molto lunghe hanno un lato di almeno un metro ok con cui i sarti più bravi segnano sul con cui i sarti dicevo segnano sul tessuto direttamente questa squadra non è essenziale per i fissati come beh magari può essere utile o magari siete dei collezionisti di attrezzi inutili ma interessanti io ve lo metto anche questo nel link in descrizione perché se non sbaglio c'è su amazon c'è però non è la squadra quella per disegnare sul tessuto quella se siete fortunati ce l'avete avuta in eredità altrimenti cercatela usata e acquistatela a qualsiasi prezzo se siete appassionati e amatori di questa meravigliosa arte ok bene abbiamo terminato nella fine della lezione come sempre se avete dubbi potete fare qualsiasi domanda riguardante ciò che abbiamo visto insieme nel video vi lascerò i link in descrizione degli oggetti disponibili su amazon alcuni vi ho già detto non ci sono nulla il video di domani è posticipato direttamente a domenica almeno lasciamo un giorno di distanza da un video all'altro e che dire ci vediamo numerosi spero domenica arrivederci a domenica